Il virus non fa festa, nemmeno il giorno losso sul calendario concede una tregua all'area peligno-sangrina che resta nella morsa del contagio. Sono 21 nuovi casi di Covid-19 messi a referto dalla ASL, 14 a Sulmona, 3 entro d'acqua, 1 a Corfinio, Pacentro e Pettorano. I nuovi positivi hanno dagli 83 ai 6 anni di età. Bandiera nera del contagio resta Sulmona che sale a quota 114 attuali positivi dopo una nuova guarigione registrata nelle ultime 24 ore, un balzo esponenziale sulla curva epidemiologica che ha sfinto il sindaco Gianfranco Di Piero a valutare una nuova ordinanza sull'uso della mascherina obbligatoria per cercare di invertire la rotta nonché tornare a un approccio più prudente verso l'emergenza. Nella casella di nuovi casi sono finiti in città tra gli altri tre nuclei familiari, altri tre minori dei 15 ai 6 anni d'età, un 26enne legato alla casa famiglia dove il contagio sembra essersi stabilizzato. Intro d'acqua mette a referto altri tre casi, un 38enne e un 71enne appartenenti allo stesso nucleo familiare, una 69enne, a Pettorano risultata positiva una 49enne mentre a Pratola un giovanissimo di 19 anni. Chiudono il cerchio dei nuovi positivi un'anziana di Pacentro, un 42enne di Corfinio. Gli attuali positivi salgono così a 182 a fronte di due guarigioni mentre sorvegliati arrivano a quota 376. Contagi si sono registrati anche tra persone vaccinate all'incirca il 40% sul totale ma tutte in isolamento domiciliare. L'effetto del vaccino nonché l'importanza della protezione si è vista sul tasso di ospedalizzazione pressoché nullo in centro Abruzzo. Nelle ultime ore i degenti sono diventati sette. Si è aggiunta purtroppo alla lista una bimba di due anni residente a Sulmona che nella serata di ieri è stata accompagnata in ospedale dopo la manifestazione della tipica sintomatologia da Covid-19. Dalla diagnosi dei sanitari dell'area grigia è emerso un quadro clinico importante che ha reso necessario il trasferimento della piccola all'ospedale di Pescara per la somministrazione della terapia specifica. In questo modo, secondo i medici, potrà superare il virus. Un altro paziente è stato preso in carico nell'area grigia del locale nosocomio ed è in attesa di collocazione. Oggi giornata di riposo doverosa per tamponi e vaccini. Domani si riparte con la speranza di stabilizzare il contagio evitando nuove pericolose impennate. Solo nelle ultime 48 ore sta di 51 i casi messi a referto, mentre il mese di ottobre si è chiuso con 170 contagi.